Sono disponibili per la squadra, anche a mezzo destra, da mio massimo alla squadra. Sabato potresti già giocare, visto che ha lì di mare dentro? Sono disponibili per la squadra, in cui si fa le scelte, ma se si scelte che fa, sono disponibili per la squadra. Sei stato già da qualche giorno in più rispetto a... Sì, 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 io so... Perché hai fatto anche il torneo di... Sì, 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 no, no, sinceramente come gruppo, è un po'...